Per tutti quelli che non hanno ancora giocato Malala saltate immediatamente questo brevissimo video, non ascoltatelo perché dovete avere almeno giocato l'introduzione di God of War Ragnar, ma per tutti gli altri ho una notizia bomba. Io vi dico solamente che il primo boss che si incontra si chiama Bjorn e la lascio lì, scopritelo da soli. Fenomenale, davvero fenomenale l'inizio.